Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Quando noi andavamo, quando comunque c'erano le partite dello stadio, le persone non è che dicevano siete scarsi, quindi non lo potete vincere. Io ho sempre sentito Cori, io con Napoletano, Vulcano, Vesuglio, Lavali col fuoco. Allora non è soltanto la cosa calcistica, quindi se io mi devo vantare di un traguardo del Napoli a livello di vita personale, come abbiamo vinto, abbiamo vinto noi napoletani, in generale, capito? Non soltanto nel calcio, allora io lo posso fare perché se voi nel calcio dite Lavali col fuoco, che è una cosa di vita in generale, non è soltanto Lava lo stadio col fuoco, non so se... Quindi se noi vinciamo lo scudetto e magari ci sentiamo realizzati anche perché a livello personale ci sta. Poi abbiamo sempre improntato quella cosa di Maradona, San Napoli, c'è stato sempre chi l'ho fatto. Quindi calcio e vita in generale, secondo me, sono sempre andato a braccetto. Lo sai che tu mi hai fatto, ne parlavamo ieri con Cerrone, il fatto che l'ospite che si siede qui è bello il dialogo perché magari ti fa anche cambiare idea. Frate, tu mi hai fatto cambiare idea con questa cosa. Io non ci avevo mai pensato, cioè non avevo mai pensato al... Però è anche una rivincita personale, anzi l'ho trovato... Lo trovo squallido, te l'ho detto fuori dalle telecamere. Lo trovo un po' squallido perché... Che significa? Vince il Napoli lo scudetto, quindi Giovanni ha vinto nella vita privata e magari Giovanni... Allora, la risposta vera... Non si sveglia la mattina alle 5. La risposta vera è no, Giovanni non ha vinto nella sua vita personale. Però per una sera all'anno, anzi per una sera da X anni, non mi ricordo neanche più da quanto cazzo di tempo è, Giovanni vive un momento di gloria collettivo insieme a tutti gli altri. Vabbè, a Napoli ti dice... Ah, cioè, vabbè, figura... Non solo... Come sono i tifosi napoletani, penso che... Napoli se ne cade quella sera, se così deve essere. Cioè, guardate la cosa, noi a Napoli abbiamo tempo e l'arte di arrangiarci, ok? Ma noi quei due scudetti che abbiamo vinciato, miseri, ce li siamo portati per quanto? Sì, Sardana. Stavo ancora parlando. Ecco, invece, per esempio, le altre persone... Cioè, gli altri tifosi, le altre squadre, no. Allora ricade anche su questa la cosa, perché se noi vincimo scudetti, noi vincimo per i prossimi dieci anni, noi a Napoli vincimo sempre... Wow, però ricorda fa... Cacciamo fiori... Cacciamo fiori... Cacciamo quest'anno per questo la versione... E l'arte di arrangiarsi... Ecco, vedi, ce l'abbiamo pure in questo. E sta cosa è bella. Vero. Allora. Ricominciamo dal principio. Esatto. Ok. Jay, il mago numero uno di me, personalmente, d'Italia, direi. Esatto. E su TikTok sicuramente... Non ha sogno di presentazioni. No, Fred and Good, eh. Esattamente. Ti ringrazio, veramente. Noi consigliamo sempre di avvicinarti al microfono, perché è quello radiofonico, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. E oggi, oltre a parlare con ti, chiaramente, della tua storia, magari come ti è nata questa passione, a me piacerebbe molto nerdare sul mondo della magia, perché è una cosa che amo tantissimo. Ok, vai. Anche io, da bambino. Ok. Nel senso, da bambino ancora oggi, amo molto vedere un mago all'opera. E quindi sì, sono super curioso. Anche che la magia non muore mai. Esatto. Da bambino all'anziano. Poi siamo tutti... È vero? Unisce un sacco sempre quella sensazione di... Di stupore. Ti piace essere stupito, no? Sì, sì. Ma io, infatti, questo dicevo, io te l'ho detto anche prima. Io sono uno di quelli che non ama andare a fondo nei misteri, sai. Svelare il trucco, scoprire, sai. Come mai è successa questa cosa, capito? Te la vivi, ti vivi. Esatto, esatto. La moneta nella bottiglia, ad esempio. Come cazzo ha fatto? Non mi interessa. A te come è iniziata la passione, invece? Allora, praticamente, vi racconto questa piccola cosa, con la parentesi. Quando avevo otto anni, mi fecero un gioco, dove mi fecero scegliere una carta. Ok. Ritrovarono la carta e io, sì, dissi, ah, figa questa cosa. Però non mi appassionai più di tanto. La vedo come una cosa... Ma la già, sì, aspetto, lo metto... Non ti preoccupare, siamo al bar. Siamo... Tao al bar, puoi tenerlo pure lì. E praticamente, dopo un anno, vedi una serie televisiva di Chris Angel. Ok. Chris Angel per me è stato... Vabbè, assurdo. Perché è stato... Chi mi ha fatto appassionare alla magia? Perché non era semplicemente scegli una carta e questa. No. Magari lui faceva... Scegli una carta. E questa è la carta? No, non è questa. Ok, aspetta. La buttava, magari questa carta volava. La riprendeva. Cambiata. Questa, sì. E tu l'hai detto, ok, allora è questa. Questo è il fatto. Tipo, volava, cose assurde. E la cosa ancora più forte è il fatto che non era il classico mago che andava in giacca e cravatta. Cioè, lui usciva per strada con catene al... Se sembrava un rapper. Catene al collo. Molto dark. Cappelli, molto dark. Sì, ecco. E... No, vabbè. No, questa cosa qui mi piace. E da lì ho detto, no, devo fare cose... Cioè, la faccio sempre, il fatto che ti faccio scendere una carta e te la ritrovo, perché comunque è bello. Però io mi sono impuntato di fare cose diverse da ciò che si vede in Italia. E vi dico che Chris Angel è uscito tipo 20 anni fa in America. Qui in Italia ancora non c'è nessuno che... Che fa cosa a quel livello. Ecco. E magari, ecco, la cosa che ho portato io, che magari ho visto da Chris, ovviamente rimodernizzata a modo mio, è la novità. Bello. Capito? E questo è il punto. Magari c'è qualcuno che ci ha provato, però senza scarsi risultati, perché why you è l'attitudine quella che manca. E se io posso dire che al giorno d'oggi io posso avere un'attitudine tale da portare quel format qui in Italia, per me è una soddisfazione e la gente lo sta vedendo. Quindi non sono io che... Cioè, sto parlando io, lo sto dicendo io, però è un fatto, capito? Non è soltanto una cosa ditta. Certo. Ma... Io mi ricordo di aver visto un video tuo in cui fai un gioco, un trick ad un mago famoso. Non mi ricordo chi è il mago. Possibile? Dynamo. Ah, Dynamo. Porca miseria. Tu hai conosciuto Dynamo. Sì, sì, sì. Hai fatto un trick al Dynamo. Dynamo, sì, sì. Ah, aspetta, fermi. Fermi, fermi. Aspetta, posso dire una cosa? Un attimino. Stai già oltre. Ok. Cioè, noi siamo partiti dalle origini. Fermati. Producer, io ti interpellerò tantissimo. Perché noi dobbiamo vedere tante cose. Io ho bisogno di vedere tutto. Allora, fermati. Partiamo. Siamo carico. Esatto. Vai su TikTok di Jay e mettimi il suo profilo. Ci sta un trick fatto al Dynamo. Vai, vai. Che è spettacolare. No, vabbè, ma Dynamo tra i tanti nomi. Per me, che ti ripeto, sono ignorante in materia. Nel senso che io, come ti dicevo, a me interessa che il trucco mi stupisca. Stop. Ok. Per me Dynamo è il signor mago per eccellenza. Certo, perché comunque tu magari sei... Tu quanti anni hai? 25. 25. 27. 27, ok. Comunque noi, ok, lascia stare che io mi sono appassionato alla magia a 9 anni. Ok. Però le persone magari in una serie televisiva se la vedono a 16. Esatto. 15. E lì, a quegli anni, c'era Dynamo. Che tra l'altro qui è arrivata in Italia un po' dopo. Lui aveva registrato un po' più di tempo fa. Ovviamente in Italia. Come si chiamava Aspera, non me la ricordo. Magia è impossibile. Magia è impossibile. E' nulla. Quindi per questo tu è come il signor mago. Certo. E te è Dynamo. Per questo. E ma com'è stato incontrarlo? Aspera, dove sta Jay? Fiamolo lì. No, vi dico tutto. Quale tra questi? Quello con Dynamo? Sì. Stava al primo, vedi? Ha fissato. Eh, ma sul web, se non mi sbaglio, non ci sono i fissati. Allora devi andare giù, che è tipo ad agosto. Ok. O settembre. Non è settembre, è settembre. Che poi ripeto, Jay, cioè Dynamo è per fare un nome perché nel mondo della magia. Sì, ma poi hai conosciuto tutti praticamente. Qualsia, sì, sì, sì. Cioè, per esempio, tu ne hai fatto uno con Charlie D'Amelio. Come cazzo l'hai beccato a Charlie D'Amelio a Napoli? Vabbè. Vabbè, 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 vi spiego un po' tutto. Sì, ma infatti secondo me dobbiamo partire dalle origini, cioè dobbiamo andare cronologicamente con ordine. No, già stai a Sutka, vai un po' più giù, un po' più su. Che poi... Eh, vai, 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 vai. No, no, dicevo che... Vabbè, ma perché sei su TikTok? Però forse se vai su Instagram è fissato? Non lo so. Sì, probabile, probabile. Ah, dai, no. Dai, no, no. Fammelo vedere un attimo. Eccolo là. Eccolo qua. Mettimi un attimo l'audio. No, non ci posso creare. Qui dov'era? Sul traghetto. No, ma vi spiego. Ovviamente io avevo un mazzo di carte con segnati i nomi delle canzoni. Stai tremando. Stai tremando. Si vede, no? Ma vabbè. Stai tremando. Io dico, dammi il tuo cellulare. Prendo il suo cellulare e glielo do in mano. Ovviamente lui mi deve dire stop su una carta qualsiasi. Sì. Ok. Lui bastardo, guarda, aspetta prima di... Ah, perché sa, no, i trucchi. Dice, ok, stop. Io dico, ok, tu mi hai fermato qui. Ogni carta è differente. Ok. Ma tu mi hai fermato proprio qui. In questo punto. Ricevi questa carta. Ok, perfetto. Thriller di Michael Jackson. Gli ridai il mazzo. Ma vaffanculo. E parte la canzone Thriller di Michael Jackson sul suo telefono. Bravissimo, sì. Vabbè, ragazzi. Cioè, dietro le quinte stanno impazzendo le persone. Allora, ragazzi, chiaramente noi non chiederemo assolutamente a Jay come fa queste cose. Non ci interessa, non ci vuole interessare. Però una curiosità, ma la devi togliere. Ok. Ti ripeto, io come ho detto all'inizio, io non voglio sapere cosa è successo in quel momento. Voglio sapere, tu non l'hai incontrato, organizzato a Dino. L'hai beccato sul traghetto. E tu mi rigiravi con il trucco appresso, praticamente. No, ora vi spiego. Allora, a parte questo è un gioco inventato da me. Perché sapevo che per stupire era impossibile stupire Dino, ma come è quasi impossibile stupire un mago. Perché comunque le basi sono quelle. Lo hai stupito? Assolutamente sì. Infatti lui, infatti... È una vittoria enorme questa. Sì, sì, no, ma infatti glielo ho chiesto alla fine del video. Infatti sta scritto, ma ti ho stupito, lui, UFO Lass. Cioè, tu ci hai stupito, ci hai ingannati. È inventato da me perché volevo che fosse un principio diverso da tutto quello che gira. Cosa è successo? Che io ero a Capri, sapevo che lui era a Capri, perché me l'hanno detto. Guarda, c'è Dino a Capri. Cazzo, devo andare per forza. Lo devo beccare. Per forza. Cosa succede? Che io vado a Capri, sapevo che lui il giorno dopo... No, non sapevo che lui partiva il giorno dopo, però sapevo che stava da un sacco di tempo, quindi non sapevo nemmeno se stava con uno yacht, se stava... Non so come cazzo era venuto. Però, vabbè, io niente, vado. Giro, giro, giro per Capri, tutto il giorno non lo acchiappo. E i negozi mi dicevano, guarda, lui è passato di qui, quindi non sarà tanto lontano. Il po' Capri è una... Certo. C'è una uccella alla fine. Oh, io non l'ho acchiappato. Un vero mago. Capito? Il giorno dopo, io me ne dovevo andare. Perché, tipo, magari se ne è andato. Boh, non lo so che cazzo ha fatto questo, però comunque dovevo andarmene, a prescindere. Uno che lavora all'aeroporto fa... Jay, oggi Dynamo parte. Quindi vine all'aeroporto. Lo acchiappi sicuro. Per forza lo devi beccare. Lo devi acchiappa per forza. Che succede? Che io prendo il traghetto. Cioè, sono andato a prendere il traghetto e davanti a me c'è Dynamo. Zan zan zan. Io mo faccio... Allora, è meglio che glielo facciamo sul traghetto, perché magari, che ne so, all'aeroporto non ha da fare. Invece qua stanno rette solo noi. Ma che cazzo deve fare? Ok. Che tra l'altro questo video ha fatto quasi due milioni di visualizzazioni. Ma se io prendivo soltanto il cellulare e facevo Dynamo, frate, ma tu cammini in coppa all'acqua, che ci fai in coppa di traghetto? Capito. Ma fine. Io facevo... Di trashi ce n'è abbastanza. Certo. Bravissimo, certo. Ecco. E niente, comunque, lo chiopo e faccio Dynamo, io sono sempre in inglese, Dynamo, io sono... Con il mio fantastico inglese. Dynamo, io sono venuto qua a Capri soltanto per te. Grande, grazie, posso farti un gioco? Così. Piccolo aneddoto. Io ci do... Cioè, prendo il cellulare e faccio... Ma chi mu fa sto video? Perché lo so, solo io. E stava la fidanzata o la moglie, la fidanzata, non so chi sia. E mi puoi fare. Sì, sì, non ti preoccupare. Ragazzi, nel 2023, nel 2022 era, come lo fa il video? In orizzontale. E infatti, se voi avete notato... È zoomato. È zoomato e poi va sia a me, qua a lui, qua a lui. Vabbè, comunque, in un modo o nell'altro siamo riusciti a montarlo. Vabbè, comunque, lui, alla fine, resta stupito, fortunatamente. Io gli do anche il mio gioco, perché poi questo gioco lo mi si invendita. Ah, ok. Gli do il mio gioco, lui, grazie, grazie, ti ringrazio. Io poi... Niente, stavo parlando con il mio manager, stavo quasi piangendo. E ci credo. Sì, Fabri, Fabri... Ma tu hai capito che ho fatto? Lui, sentì, si alzò dal suo posto, venne vicino a mio braccio e parlo con il mio manager. Ma che figata. Ma che stai dicendo? Fortissimo. E nulla, così è stupito da... Per fartela breve, perché per non allungarci... Hai detto una cosa, esatto. Il gioco si chiama gimmick, cioè praticamente sono delle preparazioni al trucco. Ok. Dimmi tu se... Sì. E... Ne esistono di vari tipi ed è alla fine il vero e proprio trucco. Sì. Ok. Sono... Non è che tu c'hai... È come se fossero i ferri del mestiere, praticamente. Sì, ma è complicatissimo da imparare. Allora, alcuni giochi si fanno utilizzando determinate cose che si chiamano gimmick, ma che sono delle cose segrete. E alcuni giochi invece si fanno senza nulla, soltanto con l'abilità. Perfetto. Sì, ma ragazzi... Però il gimmick viene usato sempre con l'abilità. Ah beh, certo, chiaro. Capito? Non è che tu compri questa cosa e dici, ok... Ora sono in grado di fare il trucco. Assolutamente. Questo volevo dire, perché chi guarderà e dirà, ah vabbè, allora il mago è semplicemente il fatto, la cosa che compri e c'è la magia. No ragazzi, cioè tu ti compri questa cosa però poi ti fa un mazzo... Quante ore pratichi? Tanti... Io sono 24 ore su 24. A pratica. Per far capire alle persone, adiu, la cosa che tutti quanti sanno al giorno d'oggi è il pollice finto. Ok? Il pollice finto, quello del fular pop. Quello è un oggetto segreto, però quello, se non lo fai bene, è quella cosa più stupida, ok? Ma quello, se non lo fai bene, non ti riesce. Poi io sono forse uno dei pochi maghi che a me non mi piace il fatto, concentra tutta la tua energia. No, vai diù c'è un trucco, c'è sempre il trucco. Ok. La telecamera, quella, quella, quell'altra. C'è sempre il trucco. Non è che tu hai poteri speciali, però questo dà un valore aggiunto ai maghi. Perché se esistesse realmente la magia, io userei la magia, e beh, è stato usando la magia, no, è ovvio. Invece la magia non esiste. E quello è il bello. Che la magia non esiste, però tu riesci a fare determinate cose. E quella è la cosa bella. C'è la tua abilità nel fatto. Certo. Che figata. Stop, basta. E questo è gelillo. Che figata. Adesso mi parlavi di trucchi con le carte. Quindi close up magic, no? Qualche che? Si dice close up. Va, spiega. Questo è un onore invece per me. Niente, però niente, la close up magic è appunto la magia che si fa ravvicinata, ok? Quindi quanto più sono vicino a te però devo essere bravissimo. Quindi quando uno lo sa fare vuol dire che veramente è un grandissimo figlio di... Figlio di? Di un mago. Di una maga. Bravissimo. Anche se mamma è una regina, sono un figlio di puttana. Appunto. Perfetto. Benissimo. E quindi ancora più devi essere bravo. Sono trucchi appunto che fai da vicino, spesso con le carte, più comuni con le carte. e magari Jay c'ha qualcosa da mostrare oggi in camera. Guarda, io non volevo fare niente. Di close up magari. Però Mario si emoziona. Facciamolo, facciamolo. Grazie a Dio. Solo per il gusto di vedere Mario si fa pipi sotto dall'emozione, per favore. Mi prego. Vai, vediamo, vediamo. Mamma mia. Allora, ma tu sai tu sai vari cioè vari giochi, no? Mi hai detto prima che mi accennavi a telecamera e spinta. Lascia sa quello che so io. Ok. Perché anche se so apprezzo da morire. Cioè nel senso. Ma se so cosa? Ma che sa? No, no, non so niente, non so niente. Che devi sapere? Allora aspetta, ferma DJ innanzitutto, non stai parlando con un collega, stai parlando con uno che è appassionato. Esatto, esatto. E per questa volta è più rischioso. Esatto. No, no, non ti permettere proprio Jay, assolutamente no. Non ti permettere proprio. Dici di no, anche perché se no dopo fai qualcosa e faccio una figura di merda, non farò niente, non farò niente. A livello nazionale. Puoi sapere che, allora, per farci capire, più di un cambio colore non ti so fare. Aspetta, sento. Ah, sentivo tipo un cellulare che parlava. No? Sì, sì. Eh, sì, sì. Vecchio non fa parte della magia questo. Ok. No, no, sì, tipo un Siri, tipo un Bluetooth che si collegava, non lo so. Ragazzi, avete qualche agendio? Aspetta. E forse. Ragazzi, mi state facendo azzeccare? Senza, tipo un robottino, capito? Tipo una poce. Io ve lo giuro, non è a me. Ragazzi, lo sto guardando, voi dietro le telecamere per dire, cioè, non fate video di buttare. Mi prego, se sta succedendo qualcosa, fatemelo sapere. Ma pure a me? Giustamente. No, va bene. Non è il mio telefono. Va bene, è il mio telefono. Allora. E niente, praticamente. Durante il setup faccio un caffè. Esatto, fai il caffè. Un bello caffè. E niente, praticamente, quindi, non mi considero di collega, sono un appassionato, mi piace tantissimo. Non gioco con le carte, però. Sì, sì, sì. E niente, poi, raga, esatto. Ah, vabbè, proprio standard. Letteralmente standard. È loro, no? Sì. È loro. Infatti, chi si ricorderà lo studio vecchio, io dietro di me, sulla parete, c'avevo una teca con una cinquantina di mazzi di carte, perché mi piace. Perché adesso per me è diventato antistress. 50 mazzi di carte, bro. 50. Ce le abbiamo, ce le abbiamo qui. Ce le abbiamo, eh, prendila, prendila. Aspetta, aspetta. Meno, se dai una mano invece anche di stare, no, ho più zero. Oh, che capace. Non so, producer, vieni un attimo, se entra in camera, non voglio farla entrare. Eh, alcuni, alcuni dei mazzi di carte che tengo. E, ah, tra l'altro, forse quelle che mi piacciono e più di cui vado più fiero, perché è il mio mago preferito. Dovrebbero stare le Black Lion di, ah, figa questa cosa. di David Blaine, perché è il mio mago preferito. E quindi, allora, io non l'ho portato. Ma figurati. Non l'ho portata, però io ho mazzo autografato da David Blaine. C'è il mazzo autografato da David Blaine? Forse in Italia ce l'abbiamo soltanto tre di noi. Mm. Sì, bro. L'è finita. il mio momento da fanboy. Esatto. Quasi. Bellissima, dopo facciamo qualcosa con questo. No, tu dopo me ne autografi uno. Prego, dicevi? Va bene, allora, guarda, iniziamo con questo. Mi chiediamo con le carte. Certo. Allora, sei pronto? Sì. La cosa faccia a lui? No, dai, facciamo così. Siccome tutti e due dovete interagire, facciamo questa cosa. Allora, tu immagina di avere nella tua mano destra un mazzo di carte composto da fiori e picche. Ok. Ce l'hai? Ce l'ho. Ok. Tu, nella tua mano sinistra, immagina di avere un mazzo di carte di cuori e di quadri. Ok. Ok. Ok? Benissimo. Ora, qui ci dovrebbe essere un'intesa tra voi due. Ok? No, sì, sì. No, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok, ok. Ce l'abbiamo. Siamo abbastanza telepatici a lui. Mettetevi d'accordo. Quale volete lanciare? Il suo di mazzo, cioè di cuori e quadri, o il tuo, quello di fiori e di picche? A voi la scelta. A te la scelta. Quale vogliamo lanciare? sentimento. Ok, vai il mio, curio e quadri. Vai, vai, lancialo in aria. Ok. A posto? Sì. Ok, ora, posa le tue carte. Ok, immaginate che mentre le carte cadono, ok, ce n'è soltanto una in particolare, quindi sono 26 carte, sì, perché 26 le abbiamo di qua, 26 carte che stanno cadendo, quindi 26 scelte. Immagina tu di prenderne una, quella che vuoi. Vai. La prendo? Prendila, prendila. Fratello, presto. Stanno ancora cadendo, prendine un'altra. Ok. Ok, ora avete due carte in mano, giusto? Sì. Dovete scegliere quale carta utilizzare, l'altra. Io l'ho già scelta. Quale? L'asso di cuori. No. Ok, l'asso di cuori. No, va bene, tu mi dici un'altra carta, giusto? Ok, che volete scegliere? La tua carta o la sua carta? Dimmi tu. La tua, vai. L'asso di cuori. Vai. Sicuro? Sì. Invece la tua carta qual è? K. K di cuori. Sì. Che non l'abbiamo scelto. L'abbiamo scelto un'asso di cuori. Sì. Quindi sei sicuro della tua scelta? Sì. No, è strana come cosa, perché io prima di venire qui, posso posarla? La mia? Ok, perfetto, la poso qua. Fai attenzione che la... Sì, no, così non vola. Una cosa. Ok. Vedi che io vado molto, molto, molto lentamente. Ok. Vedi che l'unica carta ad essere girata... Va bene, dai, tutto a posto. Tutto a posto. È un asso di cuori. Si vede producer? Va bene. Ma che cazzo stai dicendo? Però vi posso dire una cosa. Siccome abbiamo giocato con la mente... Ok. Non credo, non credo. Abbiamo giocato con la mente, c'è una cosa, che la mente, una volta che ha preso l'asso di cuori e tu hai lanciato il K, non credo, la mente ha memorizzato soltanto una carta, giusto? Ed infatti c'è soltanto una carta. Va bene, dai, ragazzi, ma tutto a posto. Ok. Tu potevi fare quello che volevi. Sì, sì, no, è figa come cosa. No, non ho parole. Va bene, dai, ragazzi. Lui sta immaginando, tipo, aspetta, come ho potuto fare. Sì, sì, da amatore sto cercando di capire. Io, cazzo. Ma non c'è niente da capire. Sono senza parole, ragazzi. E io senza cardio. Brava, capito? Non c'è la miseria. No, che figata. Allora, chiaramente, vai. Non ho la più parità di che cosa tu abbia cambiato. chiaramente non è preparato, perché non stiamo facendo live, cioè questo è un episodio pre-registrato, quindi si potrebbe dire... No, non sapevo, non sapevo. No, ragazzi, cioè voi adesso andate a fiducia, ma non so. Tutto a posto, Mario, ti vedo turbato. No, sto cercando di capire. ti assicuro che sono carte regolarissime bianche. Sì, 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 sono, sì, minchia. E io non ho parole. Mentalismo, no? Esatto. Che bello, cazzo. Ok, quindi? E quindi... Stupito o non stupito, non mi devi regalare qualcosa. Ti posso dire una cosa? Così è troppo facile. Ah, con le carte di... Sì. Fammi vedere veramente che cazzo riesci a combinare. Sei un figlio di puttana, sei però. Fammi vedere veramente che cosa riesci a combinare. Ragazzi, questo è un mazzo di carte... Questo è forse... Che avevamo noi qui in studio. Però forse devi togliere qualcosa. Sì, infatti no, stavo capendo cosa... Sì, perché stanno i joker in mezzo. Ok. No, no, va bene, va bene così. Questo... Vabbè, questa non ci serve perché è una carta bonus. L'avete visto tutti? Io questo mazzo di carte l'ho preso a caso. Sono le mie preferite, ma lui non lo sapeva. Ok. Vediamo che ti fidi di combinare. diciamo così. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Va bene questa? La vedi un po', sennò la cambi. La vedo? Sì, sì, vedela. Va bene. Sicuro? Sì. 100%? Sì. Ok. Tu anche dimmi stop quando vuoi. Ok. Stop. Ok, vai. Ragazzi, probabilmente Jamie sta odiando per avergli fatto questa cosa, perché non se lo aspettavo magari. Assolutamente non ti preoccupare, cioè me lo dovevo aspettare da mago. Esatto, esatto. Allora, a me servono due carte invece. Ok. Non le vostre. Perfetto. Ok. Ok, servono. Allora, tu quando vuoi dimmi stop. Stop. Qui? Sì. Questo lo metto o non lo metto? Non lo metti. Sicuro? Sicuro. Ok, benissimo. Prima carta. Guarda lui com'è. In studio c'è un'aura di sacralità che non avete idea. Anche tu. Quando vuoi dimmi stop. Stop. Va bene? Sì. Sicuro? Sì. Ok, seconda carta. Ok. Ci sei? Ok, queste due carte sono i due giochi. Ma vaffanculo. No, no, è figo, è figo questa cosa, è figo. Dimmi stop in un punto qualsiasi. Stop. Metti la carta qui. Ok, metti anche tu la carta qui. Allora, i due giochi ovviamente sono normali, giusto? Sì. Controllali, anche se... Li conosco a memoria. Allora controllali tu, giustamente. Ok, sono due jolly. Io ho pure detto, guarda che stanno i joker dentro. Sono i due jolly. Ok. Cioè io mi aspetto a tutti gli essi, e le hai effettivamente tolti, ma non per il... Eh. Ma in telecamera sì, perché voglio, quando uno fa i giochi di magia, molto probabilmente dovrebbe esserci capito. Giusto, no ma si vede. Si vede, si vede, si vede. Si vede? Sì, Facciamo finta che si vede. Allora, la tua carta... Ok. È una carta nera o una carta... È una carta rossa. Nera. Una carta nera. Sì. Ok, guarda, proviamo a fare questo. Ok. Ok. 1, 2, 3. Ok. Ma che cazzo non l'avevo proprio notato? Ma che cavolo? Sul tavolo per chi non l'ha visto, si sono materializzate due carte dal nulla, e sono, vediamo un po'. Sì, 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 Quella è la mia. Sì, 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 5 e 10. Ok, basta, non mi interessa. dai, ne facciamo un altro, ne facciamo un altro. No, cioè io ho voluto fare il figlio di puttana e metterti in difficoltà, ma tu mi hai giocato. Facciamo un altro. Ne facciamo un altro. Non ti serve nemmeno quell'altro. Prendi una carta, vai. Qualsiasi. Sì? Sì, sì, una carta qualsiasi. Non quella, perché altrimenti... Non sai, Non è preoccupato. Non quella, perché altrimenti il gioco potrebbe andare a farci puttana. Ce l'ho, ce l'ho. Ok, ti piace come carta? Sì, molto. Sicuro? Sì. Sicuro? Ok, tu, indovinerai qual è la sua carta. Ok. Fratello. Assentimento? Assentimento. Ok. Però non in questo modo. Ok. Certo. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Ok, metti la carta qui. Ci sei tu, no? Ci sono. Ok, spacca il mazzo. Spacca, spacca. Spacco in due. Sì, spacca in due. Mettilo sopra. Ok, ora, abbiamo un mazzo di carte, ovviamente, mescolato. Certo. Ok, tu hai tagliato il mazzo di carte. Esatto, in prima persona. Potevi fare quello che cazzo volevi tu. Però lui, ragazzi, ci sta pure nel mazzo una carta in più che non serve proprio e lui ha deciso di lasciarla dentro lo stesso. Io, sì. Ok, quando vuoi dimmi stop, vai. Stop. Qui? Sì. Ok, metti la mano in questo modo. Ecco te. Ok, tu hai detto, cioè io ho detto che tu indovinavi qual è la sua carta. Esatto. Vado? Prova. Vado. Che carta era la tua? La donna di pick. Eh, fratello lo è. Sì, ci sta. È proprio lei. Basta, dai. Hai paura, però. Sei fortissimo. Sei grande. Hai paura. Dai, dopo cerchiamo di fare qualcosa con... Esatto, allora, aspetta, aspetta. Abbiamo avuto una tua richiesta, nel senso che, siccome si chiama Espresso Podcast, facciamo qualcosa a tema col caffè. Sì, sì. Avete del caffè? Lì c'è il caffè. Ok, però lo facciamo dopo. Ok, lo facciamo dopo. Va bene, io non ho parole. Ok, questa Mario immagino che sia tua. è quella che Jay firmerà. Va bene. Minchia. Bello. È caduto una carta, te la buona, indovinala. Nello stesso modo? Non la puoi mai indovinare, ti prego. No, non è un gioco. Ah, Ah, che cazzo. Vediamo se sono davvero un mago. Vai. Quello è l'asso di cuori. L'asso di cuori. Però l'abbiamo usato in prima. Eh, vabbè, mannaggia. Ci ho provato. Se indovinavi mi alzavo. Se è l'asso di cuori, mi siete proprio a posto tuo. E ti facevo le domande. Esatto. Porca miseria. Ok. No, l'ultimo. All'ultimo. Ragazzi, porca miseria. Dimmi seppu quando vuoi al volo. Stop. Ok, prendi questa carta. Guarda ragazzi, se la cava quindi con la close up magic. Vedi se ti piace. Mi piace. Sicuro? No, non mi piace. Non mi piace stavolta. Ragazzi. Ma fa poco. No, vai. Ti piace? Sì. Sicuro? Sì. Non tanto, secondo me. No, mi piace adesso. Stop. Ok, metti la carta qua. Allora, fine mo', ogni gioco che ho fatto, ho mescolato io, ho tagliato io, ho fatto tutto quello che dovevo io. Sì. Però molte persone mi dicono, se mescoli tu, magari stai facendo qualcosa di sbagliato. Non farlo fare a me che non ti conviene. Mischia. Dai, mischia, mischia. Come voglio. Sì, e quando trovi la tua carta, mettila qua. Cioè, mischiala, ora mischia. Come voglio. Mischia, sì, 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 vai, vai. Ok, vado. Oh, anche, mischia. Posso, come voglio. Questo è il momento di colore di Mario. Come voglio. vabbè, non mi riesco. Si dedicherà all'autoerotismo dopo pensando a questo momento. Ancora. Ancora, ancora. Ok, ora, metti le carte. Bietta. No, 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 sfoglia le carte e appena trovi la tua carta, mettila sul petto. Vai, vai. Vai, vai. Mettila sul petto, mi raccomando. Ok. Sul petto, le ce l'hai sul petto? Porca gioia. Vabbè, però hai mischiato bene. Se non altro, hai fatto vedere che stai mischiare le carte. Bello, manager? Ti piace? È forte, ragazzo? Può andare avanti? Minchia. Vai. Ma che sballo. Va bene. E quindi dicevi, praticamente, la tua passione da quando sei piccolo. Esatto, proprio di questo, proprio questo volevo dire, insomma, cioè, ora abbiamo, abbiamo passato un quarto d'ora, meraviglioso. Sì. Questo però vi fa capire, il fatto che Mario abbia mischiato, il fatto che Mario sia così un cacacazzo, tanto da dire, no, questa carta non mi piace, la voglio cambiare, è da mischiare, vi fa capire, in realtà, quante migliaia di ore, Jay sia stato a provare questo genere di cose nella vita. Cioè, questa è perseveranza, dedizione, allo stato assoluto, o sbaglio? Assolutamente sì. Mitico? Assolutamente sì, ed infatti, cioè, io lo faccio 24 su 24, e per, io ho vita sociale, oppure, ho vita sociale, più vita social che vita sociale. ho vita sociale, però, so sempre, come posso dire, se io, allora, so in giro. Ok. Ok? sto camminando, cioè, la mia mano non è mai ferma, io devo avere sempre qualcosa in mano per fare qualcosa, e in quel momento se io sto allenando la mano, cioè, capito, le dita, qualsiasi cosa io sto facendo, mi sto allenando, e qui, diciamo che mi porta un po' di problemi, ma anche con il cellulare, quando io, per esempio, dico, io ne so, so con altre persone, io dico, capito, ok, io magari devo montare quella cosa, come la devo montare, cioè, capito, è un po', è un contro, però è un pro per quello che voglio fare. Certo. Cioè, io non voglio, la vita è breve, vai giù, ok, ma, non ci potiamo rarattare perché paro brutto, no, certo, però la vita è breve, però al contempo è bella, e io mi devo realizzare, ok, se io sono arrivato ad un punto nella mia vita, io, allora, io devo arrivare ad un punto, quando ci arrivo, quel punto non esiste più, perché ce ne sta sembra nata, a me mi chiamano l'eterno infelice, ok, ok, pure il mio manager, magari con i miei amici, ma tu non sei mai felice, però è una cosa che ho scelto io, perché il fatto di non essere mai felice, inconsciamente, ti fa essere felice, in che senso? Io sono felice di poter raggiungere quell'obiettivo, e quando lo raggiungo quell'obiettivo, ce ne sta sempre un altro, e quindi la mia mente va avanti con la consapevolezza che io un giorno posso essere felice, ci sta, anche se non lo sono, capito quello che dici, no no no, è vero, in realtà è molto vera, capito che se, però se, 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 prendiamo la teoria del qui e ora, sì, alla fine tu non sei felice, perché tu sei felice soltanto raggiungendo quella cosa, però quella cosa non la raggiungerai, perché, sì, la raggiungerai, però avrai sempre altre cose, perché quando l'hai raggiunta sei soddisfatto, quindi c'hai la, esatto, io quando sono uscito dalla Tosica e Vales, che comunque ho preso quattro sì e tutti, le percentuali, bla bla bla, e sono uscito e ho detto al mio manager, oh bravo, che mi fa? Beh, vai, che dobbiamo fare? Ok, no, ma se cosa c'è, cazzo, goditela, goditi questa cosa, io non mi godo le cose, perché ti mangi la vita, sì, io non me la godo, non, non riesco, non sto dicendo che è giusto, però, non so, io vivo così, cioè io pure prima, non so, quando non facevo questo, perché io prima lo facevo per hobby, se io avrei diventato una professione, stavo sempre a dire, devo fare qualcosa per svoltare la mia vita, cioè la mia vita deve avere, io devo lasciare un segno, è quello che mi fa andare avanti, cioè, tu andai a morire, ok, però io voglio che io quando muoio, le persone si ricordino di me, e non, non necessariamente soltanto i miei amici, perché ovviamente è normale che tu ti ricordi di un amico, o di un figlio, o di un fratello, le persone che non mi sanno proprio, non è ricerlo, certo lo conoscevo, è stato un grande, per me, io devo lasciare un segno, tutti moriamo, ma se non lasciamo un segno, che viviamo a fare? molte persone però dicono, ovviamente, che i segni magari si possono lasciare in altri modi, e non magari diventando famoso, fare cose del genere, ed è giusto, magari uno si crea una famiglia, eccetera, eccetera, magari il segno lo lascia in un altro modo, però, io ho questa concezione, questa è la tua scelta, assolutamente sì, e quindi niente, ogni obiettivo che raggiungo, verrà sempre surclassato da un altro che devo raggiungere, questo campo così io. In effetti è un po' una condanna, secondo me è vero. È una condanna, assolutamente, assolutamente, io me sto con voi, è bellissima come cosa, ma ecco, già sto pensando, ok, mo' io esco da qua, cosa devo fare dopo? Capito? E vedete, è tutto un susseguirsi di cose. Ti posso fare una domanda? Ragazzi, odio interrompervi, c'hai lo zaino che parla, Jay, c'hai proprio lo zaino che parla, c'hai lo zaino che parla, e fai discorsi da solo, e non riesco a capire, è lo zaino o è qualcosa di nostro? Comunque, oh, e ora ha smesso. Ragazzi, voi mi starete a prendere. Pensa a una carta? No, Jay, non è possibile. No, nemmeno per me, perciò sto dicendo, pensa a una carta, pensata, che carta hai scelto? e il 7 di picche. Non tu, non lo vuoi lasciar, fermo, ma ti hai scelto. Ah, ma allora è live. Ma cosa significa? E' impazzito il telefono, Jay, tutto a posto. Fermi, fermi, aspetta, stiamo assistendo a qualcosa, stiamo assistendo a qualcosa. Di veramente magico, di veramente magico. Io l'avevo spinto. Cioè che da solo ha preso, ok. Sta impazzendo il telefono di Jay, tutto a posto. Hai lo zaino che parla, se ti ho messo altrimenti. Fratello, sentivo parlare da questo lato, non capivo. Tipo campello parlante. Ma avete visto pure prima? Sì, sentivo ogni tanto sta cosa a terra. Esatto. Cioè, spero che non si sentano i microfoni, però c'era questo fastidio sotto. io l'ho spento. Allora, sapete il problema quale è? Questi robot stanno, stanno, questa intelligenza artificiale. Ci stai rovinando le vite. No, no, sì, prenderanno, prenderanno la vita. Il sopravvento. Sì, ma assolutamente. Prenderanno la nostra vita. Allora, sapete, allora, giuro che non sto dicendo, cioè, giuro che sono serio in quello che sto per dire adesso. Io non riesco, è un episodio un po' difficile per me questo. Non riesco mai a capire se sono nel bel mezzo di un fatto o stiamo solo parlando? Stiamo solo parlando. Stiamo parlando. Questa è un'altra condanna. È vero? È la tua vita questa. Immagino che sia un po' una rottura di palle. Ah, lo credi? Stanno parlando con gli amici, gli amici facciano, aspetta, che stanno com'era. Gli amici lo guardano tutti sempre con quella faccia a dire, ah, è vero. Ma è vero che anche le persone che stanno vedendo, Magari dicono, asci, non succederà niente, ragazzi. Allora, fino all'ultimo, non succederà niente. Tranquilli. ero... Ok. Vai. Telefono che... No, ah, ok, ok, Comunque, io ho perso il cellulare. Ok. Io non potevo dire di aver perso il cellulare, perché la gente faceva, ma tu sei un umano, falla a combari. Ecco, è chiaro. È certo. Capito? Io non posso, cioè io ho perso proprio, non posso fare niente di negativo per la mia vita, perché per gli altri posso sempre trasformarlo in positivo. Aglio, non è così. Assolutamente no. però è così. E poi l'ho perso in un taxi il mio cellulare. Figurati. Immagina. La gente si aspetta a un certo punto ed esce. Mamma, mamma, esatto. Esatto, Ma domandina che stavo per fare. Prima che, insomma, che Mario dicesse che il tuo zaino parlava, visto questo, questo fatto, insomma, un po' come abbiamo detto, comunque la vita, insomma, vivi questa condizione un po' anche come una condanna, questa continua ricerca della soddisfazione che poi non arriva mai. A te fare il mago ti diverte ancora? Come quando eri bambino? Sì. Sì. Forse, no, ma sì, assolutamente sì. Magari è un po' come cosa, che ne so, quando, ecco, esco, magari le persone mi fermano per una foto e poi dico, mi fai un gioco di magia. Magari se io vado di fretta, vado e un po', capisce, faccio, la faccio, non la faccio come voglio, però la devo fare per forza. Perché? Perché già su TikTok, su Instagram, le persone, quando vedo i miei giochi, pensano siano finti. Ci sono tantissime persone che lo pensano, anche quando vedranno questa cosa della carta. Anzi, grazie per aver scelto l'asso di cuore che ti ho detto prima. Certo, figurati. le persone pensano questo. Allora, se io magari dico, no ragazzi, vado di fretta, la prossima volta, possono pensare, ah, ma allora è vero, tutto finto. Perché non c'è niente di preparato, io l'ho chiesto così all'improvviso, dici sì. Sì, sì, no, ma anche, ma pure se io non c'è nulla di preparato, magari possono pensare proprio, no, non c'è nulla di preparato, ma quindi è tutto finto quello che fa, tagli nei video. E quindi io mi fermo e lo devo fare per forza. Per forza. È raro che dico, ragazzi, proprio quando sto veramente di fretta. E quindi, niente, per questo, magari mi scuso le persone che, ecco, faccio il gioco di fretta, magari non mi diverto, ecco, come voglio. Però è per la fretta, è per la velocità, è perché magari non c'è nulla, magari prendo un anno e lo faccio sparire. A me ne ha cagate che è la cosa. Certo. Però in quel momento posso fare solo quello, non c'è un mazzo di carte, non c'è nulla. Vabbè, poi capisco anche il contesto, nel senso è come se io fermassi un pizzaiolo, a dire, oh, grande, ciao, fai una pizza a volo. Capisco che, in effetti, dopo un poco è una rottura di parola. stufa, certo. No, perché è sempre bello, divertente, come abbiamo detto, però, anche se a volte uno ha un cazzo suo da fare, insomma, siate umani. no, 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 però capisco questa cosa qui, magari prima non la concepivo e dicevo a me, quello sono le persone che ti alzano, perché, perché voi non dovete farvi la foto? E io sono di questo parere a tuttora, perché penso che le persone siano il fulcro principale di un artista, non per l'arte, ma per la crescita di un artista, per quello che poi si vuole fare, poi tu sei un artista e vuoi stare a casa, vuoi dipingere e fare i quadri più belli del mondo, però non vuoi essere nessuno, e le persone non c'entrano. Però, quindi io non rifiuto mai niente, assolutamente. Magari ecco, insomma, magari ora sono nel mio piccolo, nella mia nicchia, magari quando diventerò, non dico se, dico quando. Bravo, perché ci riesco. La mentalità giusta? Magari ecco, posso dire, però io vi prego un po', però secondo me no, perché io sono cresciuto con questa mentalità, con questa cosa, che comunque le persone che ti supportano vanno sempre accontentate, perché loro hanno quel momento, ti vedono, si vogliono fare una foto, magari dopo non ti rivedono più, e tu pure si installa e devi perdere una giornata, quella è una giornata che verrà ripagata in un altro modo, e per questo io lo faccio sempre. Vero, ma cacchio, che bella, cioè, allora, questo discorso della persona famosa, che quindi chiaramente vive il contatto col pubblico, è un discorso che abbiamo sentito e risentito in tremila salse diverse. Certo. È bello però questa cosa che hai detto, del, io lo faccio non solo perché io devo dire grazie al pubblico ogni giorno, ma perché quella persona che è un mio fan, probabilmente non la rivedrò mai più. Certo. Bellissimo. Cioè, gli hai reso magari unica la giornata a quel momento. Gli hai aggiornato la giornata, va bene. Ecco, magari per, metto voi, Certo. magari voi, se voi volete fare una foto con me, magari, ok, ci sta perché magari mi conoscete, però ci sta proprio il fan, fan, fan. Certo. Ma lei non mi vedrà più, capì? E quella è la cosa, perché poi ci sono passato, eh. Sì. Cioè, io, io andavo, io irrompevo, ok, allora, ora vi spiego una cosa. È legale? La mia ascesa, sì, Ok. Ah, cioè, tra la parola irrompevo. No, non penso sia, non penso sia illegale, però, ora vi spiego una cosa, è una cosa figa. Vai. Allora, vabbè, io sono cresciuto su TikTok, no, la mia ascesa è dovuta al fatto che ho inventato un format, se ti stupisco mi fai un regalo, dove io irrompevo nei negozi di Napoli, e dicevo, ciao, sono un mago, se ti stupisco, con una magia ovviamente, mi regali qualcosa nel negozio. Documentavo tutto, e lo metto sui social, e dai milioni e milioni di visualizzazioni, pian piano, pian piano, pian piano. Ok, questa cosa deriva anche dal mio passato, perché io prima cantavo, Ok. E per farmi vedere sempre con artisti importanti, sui social, che magari le persone dicono, guarda, chissà, io irrompevo nei backstage, cioè facevo cose che mi fingevo altre persone per andare nel backstage, vi racconto questa cosa, che magari gli addetti al primo maggio, se sentiranno questa cosa, al primo maggio concertoni a Roma, magari non so, mi denunceranno, ma sti cazzi. Jay sta scherzando, cioè ci sta raccontando una fandonia. Certo. Prego. Non è vero, arrestato. Praticamente che fici? Allora, io andrei al concertatore del primo maggio, io dovevo capire come entrare lì dietro, senza pass. Aggiore, la cosa è impossibile, stavano tutti poliziotti, carabinieri, cose, ma boh. Io guarda, stavano tutte transenne, non è che ci stavano i transenne e poi il backstage, no, stavano le transenne, la passerella per andare, forse, dirò al palco, poi di nuovo delle transenne, poi io dicono, devo rimediare un pass. Comunque, incontrare questa persona, diciamo, da lì sono dei miei amici, nessuno mi cagava, fino a quando uno, accreddo a questa cosa, e fa, guarda, quello che posso fare, riesco a prenderti un pass, ma non vai nemmeno nel backstage, vai nel, non ti preoccupare, troviamo questo pass. Comunque questo che fa? Va, va a prendere, comunque, trova il pass, guarda, vede pure l'ultimo, e dietro, c'erano sbarrate con il pennarello tutte le aree in cui potevi accedere, in cui non potevi accedere, ah ok, cioè tutte, tutte, ma come? Allora, questo è un cartoncino, lui fa così, no, e si cancella tutto, ci pensi? Questo era il primo di fare il mago, ah ok, ok, è un cartoncino, il pennarello, comunque quello là, è indelebile, che faccio? Ma serve spirito, è alcol, scusa, certo, e ho vatto, è il, no, è un tovagliolo, comunque che faccio? Vado nei supermercati, in cui potevano, nessuno c'era quest'alcol, comunque che faccio? Vado in un bar, sporco un po' il mio cellulare, e dico, è caduto il cellulare a terra, non so dove è caduto, ma non si toglie, avete un po' di alcol, loro mi danno l'alcol, io lo bagno un po' sul fazzoletto, e io passo pian piano, e il fazzoletto nel pass si toglie, tutto, cioè io avevo un pass, completo, ma io potevo entrare anche nei camerini, mentre si stavano spuggiando gli artisti, ma Roger questo sogno che hai fatto, mi sta piacendo, bellissimo, è bellissimo questo sogno, è stupendo, sembra quasi, vero, comunque che succede, io mi metto quel pass, entro dappertutto, tutti mi guardano, stavano finendo con me, comunque pensate che io, ecco, col pass, così, non è così, l'altra non è così, io dove cazzo voglio adesso, era tipo il 2017, se non sbaglio, sì, era il 2017, e tutti, e poi c'era Ultimo, Achille Lauro, era un bel fatto, bellissimo, comunque, niente, le persone quando passavano, magari siamo pure gli addetti ai lavori, che mi guardavano e facevano, ma chi è questo, e senza almeno domandarmelo, prendevano il pass, giravano, ah, vabbè, ma addirittura, allora quel, quel, quel palco, cioè quell'anno, conducevano Ambra, Angioli, Angioli, e l'ollo dello stato sociale, ok, comunque quando finì tutto, loro sa, festeggiavano, e, e, nei festeggiamenti, super, super privati, c'ero anche io, senza che Ambra, uscendo, mi guardò, mi fece, sì, e mi abbracciò, e io, eh sì, guarda, sai che è grande, sono proprio il maricolo, torte, cose, in un mattino, stavano tipo 10 persone, tutti i diritti, tutti i camali, si credevano che io, chissà chi fossimo, alla fine non ero un cazzo di nessuno, capito, non ho parole, ecco, e quindi questa cosa, ma qui io lo facevo sempre, per entrare nel backstage, questa cosa pure, pure, ho visto la c***a, no, vi avete invitato a c***a, giusto? Ehm, ah sì, non l'avete invitato, non ancora, sì, la tagliamo questa, la tagliamo, la pittiamo, non sapete mai, chi deve venire, vabbè, comunque, è giù di sauna, ah boh, lasciamo stare, nulla, il concerto al Pizza Village, sì, ok, ma il Pizza Village è fortissimo, benissimo, io sono quattro anni che ci vado, quattro anni che ci vado come ospite, ok? Ok, ospite oppure, ospite, 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 perché questa cosa? Ok, senza cancellare nulla, perché? Io senza cancellare nulla, perché io mi intrufolai nel backstage, cinque anni fa, no, quattro anni fa, non mi ricordo, quattro o cinque anni fa, mi intrufolai nel backstage, e chiedevo, senza passe, senza niente, quindi mi potevano pure cacciare, e chiedevo, ragazzi, ma mi serve, chi dirige qua, perché io devo far ascoltare le mie canzoni, perché io cantavo, quindi mi voglio esibire, ma tu non puoi stare qua, dai, sta quasi finendo, vabbè, uno mi prese a cuore, non ti preoccupare, comunque mi presentarono, a Lina di RTL, di Nocchia, su Instagram, ti voglio bene, sei la vita mia, che mi ascoltò le mie canzoni, mi prese proprio, a cuore veramente, ma tutt'oggi mi vuole bene, fa, guarda vai, domenica chiudiamo, esibisciti, wow, che sballo, e da lì, poi, mi hanno avuto bene tutti quanti, tra cui, ecco, Gianni, Angelo, sempre di RTL, questo è legale, questo si può raccontare, questo si può raccontare, questo lo possiamo dire, questo non era un sogno, questo non era un sogno, e quindi, ecco, da lì, poi, io ho partecipato, ecco, come cantante, fino a quando quest'anno, nel 2022, scusami, l'anno scorso, l'ultimo, non ho partecipato come mago, e, e nulla, ecco, per questo, vedi, tutta questa cosa, il mio passato, che io, quindi è mentalità tua, forza fare, sì, è perseveranza tua, mentalità tua, carattere, che ce l'ho pure tatuato, perseveranza, perché la cosa che, io dico sempre che la perseveranza, è più forte di qualsiasi talento, si va giù, e, e, io qui lo dico, perché non me ne frega nulla, perché la verità, capito, quanti maghi, ci sono in Italia, che sono, diecimila volte più forti di me, ma non riescono ad arrivare qui, ce ne sono tantissimi, ci sono maghi che, a livello di tecnica, non mi fanno capire niente, ma non è quello, il fulcro per fare queste cose, non è che, ci vuole perseveranza, impegno, dedizione, allora, io ho fatto di questo, la mia vita al 100%, io sono gelillo, come sono genni, è la stessa persona, non è che faccio gelillo, è un personaggio, e genni no, no, ma pure a casa, io pure a casa, sono il mago, senza, ovviamente, dimenticare, fa uscire le pentole, attuare all'improvviso, certo, certo, no, mamma, quando faccio volare le cose, ormai faccio salire il sangue al cervello, ecco, ed è questo il punto, è nulla, questo, e mi piace, sì, no, mi piace pure che stiamo, ecco, parlando, bellissimo, che le persone lo devono sapere, vero, da quanto siamo andati, mezz'ora forse, sì, una mezz'oretta, una mezz'oretta, che arrivano fino a qua, in realtà 50 minuti, però sono contento che per voi sia passata mezza, 50 minuti, posso fare una, fermati, devo stemperare un secondo, voglio fare una curiosità mia, io nel frattempo faccio un'altra cosa, ok, a volo, per poter scendere di casa, sereno, che qualsiasi cosa che succede, sei sempre pronto, quanti giochi devi, quanti giochi devi avere a disposizione, cioè nel senso, prima di poterti definire mago, nel senso di dire, ok, io scendo, se uno mi ferma a volare un gioco, io lo faccio, se mi fermano 10 persone, io lo faccio, quanti giochi devi conoscere, secondo te, quantifichiamoli più o meno, dici tu le domande del cazzo, eh lo so, però è una mia curiosità, cioè nel senso che quando scende una persona, ecco, quando una persona mi dice, fammi un gioco, sì, io devo, sempre uno, anche uno, anche uno, purché sia fatto bene, anche uno, bravissimo, ok, fermi, fermi, ti ho messo un asso di cuore dentro la tasca, mi hai messo un asso di cuore dentro la tasca, o che stai facendo, non è vero che sta qua, stai scherzando, te lo giuro, se non ci sta qua, è un asso di cuore, e me l'ha messo realmente in tasca, mi state rompendo le palle voi due, eh, con questa storia, però, stiamo assistendo a un fatto, guardami, guardami, immaginati, se veramente io avevo messo un asso di cuore dentro la tasca, immaginatevi se veramente l'avessi fatto, sarei stato fortice, l'avrei distrutto, ma anche perché, ma anche perché, qui non c'è, quindi ho detto, cazzo, veramente l'ha fatto, assurdo bro, fermati, ma che cazzo, voi mi avete esaurito, vi giuro, vai giù, oh io mi ho veramente messo una carta, andate a cacare, sei un grande bro, andate a cacare, bravo, sei un grande, no dai, facciamo, facciamo un'altra cosa mo, al volo, no basta, mi hai, mi hai distrutto, io non ho parole, vi giuro, cioè sono, allora, ragazzi vi giuro, non abbiamo preparato nulla, ma tu che cazzo vuoi con quest'asso di cuore, dove devo uscire, ho pensato di fare una battuta di merda, ho pensato di fare una battuta di merda, ho pensato, abbiamo con questo cazzo di asso di cuore, l'ha fatto comparire, scomparire a tutte le parti, faccio la parte che io lo metto, vai, nella tasca, certo, allora, non ho ancora niente, frate controlla, giuro, fai qualcosa, anche il cellulare l'ho posato, non c'è niente, dimmi stop quando vuoi, stop, va bene? questo lo metto o non lo metto? non lo mettere, sicuro? sicurissimo, ok, quindi tu mi hai fermato in un punto qualsiasi, esatto, giusto, mantieni, questa, questa, la guardo? guarda, la guardo, ok, allora, dai, visto che tu facevi il mago, ti sei un po', sbattuto, dilettato, sì, fai, indovina la carta, anzi, indovina soltanto il simbolo, ok, il seme, il seme, sì, vai, è un pic, beo, devo rispondere? allora, vuoi cambiare, sì o no? no, non te lo dico, non cambio, perché mi è sembrato, ok, fermo, dal tuo sbaglio, sì, io mi sono accorto, perché lui, se, era realmente un pic, che non ti diceva, non diceva te lo dico, dire, diceva un'altra cosa, non lo conosci, no, 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 vediamo, vediamo se lo conosco, tu facevi totalmente un'altra cosa, anche forse il contrario, non è pic, è cuori, ma tu che cazzo stai dicendo? è cuori, bene, allora, facciamo così, è lui, proviamo a fare questa cosa, ok, Jay ha voluto il caffè, ok, ok, ah, ho capito, pulisci tu dopo Jay, non ti preoccupare, ok, facciamo uno scherco di dita, ok, è cuori, quindi noi dobbiamo indovinare il, il numero, il numero, ok, perché avete chiamato Espresso Cafè? Espresso Cafè, Espresso Podcast, in realtà, l'idea doveva essere quella di, un caffè, del fatto che il podcast dovesse essere una chiacchierata che fai con un amico davanti ad un caffè, esatto, e poi anche il fatto, sai, si è espresso, esatto, era un gioco di parole fondamentalmente, sì, erano due motivi diversi, oggi si è espresso, due scemenze un po', esatto, ci piaceva, era sfizioso, però vedi che, se io tolgo, non ci posso mai credere, ma che dite? è un 2, vero? aspetta, non vedo bene, è un 3, è un 3, giro, ma che sai dice? è un 3 per caso? eccolo qua, è un 3 di cuori, va bene ragazzi, tutto a posto, eh, grazie mille, cazzo, grazie di tutto, porca miseria, ok, grazie di essere passato, si vede bene, si vede, ok, veramente, porca miseria, che storia, che storia brother, veramente, sei un grande, ci diamo con una vada che davrà generale, sì, ti auguro di tutto e di più, ti ringrazio, cazzo, tutto il meglio, vero, ti ringrazio, sei un grande, complimenti davvero, quindi chiudiamo con uno schiocco di dita, vai, tutte e tre, vai, due, tre, grazie, 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 Grazie a tutti